Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo l'ultimo sondaggio di Ipsos Spagnoncelli per il Corriere della Sera, vediamo che gli elettori di Fratelli d'Italia sono il 31,7%, 7,8% la Lega, Forza Italia noi moderati 7,3%, PD 16,3%, altre liste 5,8%, Movimento 5 Stelle, questo in giallo 17,6%. L'identikit dell'elettore di Fratelli d'Italia. L'elettore di Fratelli d'Italia è principalmente uomo, tra i 50 e i 64 anni, livello di scolarità, licenza media elementari, condizione economica medio-bassa. Poi vediamo che l'elettore, l'identikit dell'elettore della Lega è donna, tra i 35 e i 49 anni, livello di scolarità, licenza media elementari, condizione economica bassa. Mentre vediamo che in Forza Italia principalmente sono donne con oltre 65 anni, livello di scolarità, licenza media elementari, condizione economica bassa. Vediamo che l'elettore del PD è principalmente donna, oltre i 65 anni, con livello di scolarità laurea e condizione economica medio-alta. Vediamo che nel Movimento 5 Stelle principalmente l'elettore è donna, tra i 18 e i 34 anni, con livello di scolarità, licenza media elementari e condizione economica bassa. Vediamo che la prevalenza nei partiti di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle e anche Forza Italia è lo scarso livello di scolarità e la condizione economica bassa. Vediamo nel PD che l'elettore medio è laureato con una condizione economica medio-alta o elevata. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.